oddio non è che la situazione sia migliorata più di tanto niente è così ciao a tutti e bentornati nel mio canale dunque oggi andiamo a commentare un video try on all di chiara d'alessandro questo try on all si compone di bikini monochini e soprattutto da abbigliamento da chiappo siete curiosi bene vi anticipo che è una collaborazione con il sito shane e adesso possiamo andare con il video la prima cosa che ci mostra è un set costumi composto da tre pezzi questo set si compone di un bikini e il suo copricostume abbinato e partiamo subito con il descrivere la parte sottostante del bikini che si presenta nella parte retro totalmente in nero mentre il davanti è suddiviso in due parti la parte destra è totalmente nero mentre la parte sinistra è di colore nero come fondo però presenta una fantasia tipo un dragone con una lingua di fuoco una fantasia delicatissima insomma mentre il pezzo di sopra è fichissimo voi direte perché perché ha un indosso molto particolare cioè si incrocia sul davanti e va allacciarsi nella parte retro o forse tutto il contrario vabbè chi se ne frega andiamo avanti ora lo so che non ci crederete mai ma la parte di sopra del bikini è tutta tempestata dal dragone con la lingua di fuoco stesso discorso vale per il copricostume che si presenta sotto forma di vestaglia trasparente fondo nero sempre con questo dragone dalla lingua di fuoco le mani che sono tipo kimono il tutto è molto trasparente e oserei dire che anche un po hot ora provate a calmare i bollori e passiamo al secondo articolo costituito da un bellissimo bikini molto particolare in quanto si presenta in due colorazioni diverse e cioè la parte sotto è total black c'è totalmente in nero mentre la parte sopra il reggiseno del bikini si presenta in una fantasia tipo marmorizzato fondo bianco con delle macchie nere che va a riprendere il nero degli slip ammazza che brava che sta diventando e andiamo senza indugio al terzo articolo che è un po complicato da descrivere ma ce la metto tutto allora questo articolo si presenta sotto forma di costume intero però la parte sotto del costume si presenta a vita molto alta cioè per farvi capire arriva fino sotto al seno è in una fantasia animali e leopardata nei toni del rosa del fucsia e del nero e dal costume passiamo ad un giubbetto di jeans a questa volta di colore rosa chiarissimo con questo giubbetto è successo un problema nel senso che non c'era nella taglia che lei prende solitamente però ha creduto bene si è portato avanti col lavoro l'ha preso in una taglia inferiore dato che sta seguendo questa ferrea dieta conta sul fatto di poterlo indossare al più presto quindi segue la clip con il giubbetto indossato ed effettivamente le si abbottona sul davanti anche se tira leggermente però a onor del vero le si abbottona ma non è finita qui perché in abbinato a questo giubbetto di jeans di colore rosa chiaro c'era anche una minigonna sempre di jeans e sempre rosa chiaro però è successo un guaio nel senso che la gonna purtroppo sul davanti non si chiude vabbè poco male tanto il giubbetto di jeans può sempre indossarlo a prescindere dalla gonna anche se devo dire che visti insieme era davvero un completo molto figo per il prossimo articolo restiamo nel discorso jeans un altro giubbetto però questa volta nel classico colore denim però con una grande particolarità questo giubbetto è tutto tempestato di lunghe frange di un colore a contrasto cioè bianco sul davanti sulle maniche sul dietro su ogni dove modello lit lettoni insomma articoli sono tanti quindi passiamo subito al prossimo articolo che consiste in un bichini dai colori accesi e vivaci la parte alta del bichini cioè le coppe si sostengono al centro unite pensate un po da un anello metallico mentre la parte sottostante del bichini si presenta a vita alta e in questa fantasia psichedelica altro giro altra corsa e andiamo a raccontare il prossimo articolo che è un bichini questa volta in una fantasia animalier la parte bassa del bichini cioè gli slip si presentano a vita alta in questa fantasia leopardata mentre la parte alta del bichini si presenta in un modello a fascia con delle spalline larghe e sul davanti proprio al centro c'è una piccola cerniera lampo in un colore a contrasto e cioè nero il prossimo bichini che ci presenta chiara praticamente vale quanto tutto il try and all è un bichini che va interpretato in che modo il perché ora ve lo spiego subito partiamo dal descrivere la fantasia di questo bichini che mi sa che è la cosa più semplice da spiegare il fondo è nero e presenta tante striature di bianco che vanno un po' a dare quel senso ottico dell'effetto marmo il pezzo forte del bichini è la parte sottostante e cioè gli slip perché applicate agli slip ci sono due fasce che si possono portare in due modi diversi allora il primo modo è avendole incrociate proprio applicate agli slip oppure tirate in su sulla pancia a modi x cioè tipo sapete i crociati i crociati avevano la croce perché si chiamavano i crociati questo costume tipo vabbè bene questo era l'ultimo costume di questa breve ma intensa carrellata di articoli Shane e come sempre quando finisce il video di chiara finisce anche il mio e quindi io vi auguro buona continuazione di serata vi do appuntamento al prossimo contenuto bacio a tutti da gossip grazie 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 grazie